Questo progetto vuole dare la possibilità alle persone autistiche, mediante un dispositivo che usa software di comunicazione aumentativa alternativa, vuole cercare di desensibilizzare, di abituare le persone non verbali con autismo ad affrontare visite mediche, percorsi ambulatoriali o anche un semplice prelievo di sangue che per loro può essere una cosa estremamente difficoltosa. Ora vogliamo iniziare un percorso per aiutare persone autistiche e famiglie ad affrontare questi eventi con maggiore serenità. Io da parte di Anza Marche e di tutte le famiglie ringrazio. Ma è un bel segnale perché dimostra che questo centro, il centro di urno di Fano, collabora e trova sempre più connessioni e quindi si apre al territorio. Quindi grazie davvero a Rotary per la sensibilità che ancora una volta dimostra e sono momenti importanti perché dimostrano che c'è un'attenzione nei confronti di chi è più fragile, di chi ha vissuto con ancora più difficoltà il periodo di distanziamento che era fisico ma poi anche sociale, quindi per abbattere sempre di più queste distanze.